Segnano gli attaccanti, vince il Cerignola, vince nettamente, batte 3 a 0 al Monterisi il Messina diretta concorrente della lotta per la salvezza e ritrova il feeling con il successo dopo 4 turni di astinenza, 3 in campionato più la parentesi di Coppa Italia, Ofantini che balzano così a quota 10 punti in classifica dopo 8 giornate di Serie C, Bottino molto vicino al voto 7, Outcoccia, Capitano Allegrini e Gioffre titolare, Blondetti in difesa, Malcore fa la boa con Nellia e Aschic a supporto d'Andrea, entra e segna, primo quarto d'ora o giù di lì dedicato alla fase di studio, poi è Nellia a sfiorare il montante alla destra di Daga pochi secondi dopo e Sainz Mazza a servire un pallone d'oro ad Aschic che si divora clamorosamente il gol del vantaggio, si riscatterà più tardi, la replica dei siciliani destro di Marino sul fondo, ospiti pericolosi prima della mezz'ora sugli sviluppi di un corner, Catania Pennella, Trasciani sbaglia tutto solo sul secondo palo, poi la svolta, Daga si oppone alla soluzione incrociata ed insidiosa di Nellia ma non la può sul tap-in provvidenziale di Aschic, primo gol per lui in questo campionato, scorrono i titoli di coda sulla prima frazione quando Nellia, servito da bianco, impegna con il mancino l'estremo ospite, Cerignola quindi avanti di una rete all'intervallo, ripresa, poco dopo l'ora di gioco Malcore fa le prove generali del gol, Madaga gli sbarra la strada, successivamente calcia in maniera debole dopo il dai e vai con il nuovo entrato da Andrea e proprio di quest'ultimo l'acuto del raddoppio, giocata sontuosa sulla destra di Russo, assist al bacio di Tascone e tocco vincente che vale il 2-0, successo ipotecato dagli uomini del presidente Nicola Grieco prima dell'ultimo quarto d'ora, prova a riaprirla immediatamente il neo entrato con a te per gli ospiti, mira in precisa, Malcore vuole la gioia personale ma non la trova con la botta di destro, espulso, pazienza, incredulo il tecnico di giallo blu per la decisione del direttore di gara che assegna il penalty invece allo scadere per questo contatto in aria tra Tascone e con a te, Daga a zecca l'angolo, ma non ci arriva sulla traiettoria di Malcore al quarto centro in questo campionato, finisce così 3-0 per il Cerignola che ritrova il sorriso dopo un periodo di leggero appannamento, Ofantini sabato prossimo al partenio Lombardi sul campo dell'Avelino contro una delle più grandi delusioni di questo avvio di stagione.